Dopo aver imbruttito la gente a Laurentino 38, nel video di oggi siamo andati in un quartiere pericoloso e molto gettonato, Torbella Monarch. Prima di partire col video ci teniamo a precisare che ovviamente la finalità di questi scherzi non è lo scontro ma soltanto l'ironia. Fatemi sapere qui sotto nei commenti il prossimo quartiere che vorreste vedere e detto questo partiamo. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Simone Workout. Ragazzi miei siamo qui direttamente a Torbella Monarch, pronti per fare nuovo video delle imbruttite alla gente nei quartieri pericolosi. Avete votato in tanti questo quartiere quindi abbiamo deciso di entrare qui con Bostantino e Mattia. E oggi ragazzi utilizzeremo una metodica diversa perché avrò le cuffie tipo stile Omi Adola di un po' di anni fa solo che lui ha fatto in posti più tranquilli. Noi lo facciamo qui e praticamente andrò a far finta di parlare, cercare di provocare ovviamente le persone e vedere un pochettino la loro reazione. Ovviamente ho voi le spalle. Allora sicuro, già l'altra volta ci è mancato poco, salta che ho una pizzora in faccia qui. Una pizzora in faccia, aspetta. Non sei più una pizzora in faccia più, è un po' migliore. Comunque ragazzi iscrivete qui sotto prima di partire con il video nei commenti quale prossimo quartiere vorreste vedere e noi vi accontenteremo insomma. Di detto questo partiamo, dai. Che cazzo ne so. E mo' da tanto che mi è stata a romper cazzo, ti dico la verità. Mi è stata proprio a creare problemi. Capito, c'è proprio una cosa fastidiosa, ti dico la verità. Da un po' di tempo, da un po' di tempo a questa parte. Ti dico la verità. Sei con noi? Ti dico la verità da un po' di... Che? Ti sto infastidendo? No, no, scusa, sto al telefono, scusa, sto al telefono. Ma poi perché quale cazzo è il problema, pure che c'è con te che ti sto da fastidio, c'è? Non ho capito questo. Perché mo' da un po' di tempo, che va avanti sta storia, ti dico la verità. C'era con noi? Aspetta un attimo, Maurizio. Aspetta, un secondo proprio. Che scusa? De che? No, sto al telefono. No, mi sono messo qua il telefono un attimo. Tappunto. Ma Maurizio, no, niente, che mi stavano a chiedere se c'erano con loro. No, che proprio che mi stacca il cazzo per davvero. Oh, se poi se dobbiamo partire, lo dici? Basta. Basta proprio. Che c'è guardia? Che c'è guardia? Che c'è guardia? Che scusa un attimo. Dici basta e c'è guardia, perché? Ma ci sta prendendo per il culo? Chi ha per il culo o chi? A noi. A noi. Aspetta, sto al telefono. Aspetta, te richiamo dopo. Te richiamo dopo, scusa. Il problema ci sta? No, aspetta, perché sto al telefono. Eh no, però poi mi dici il problema ci sta. Sicuro? No, sto al telefono. Sto parlando al telefono. Sei sicuro? No, è uno scherzo, c'è Mattia ha ragione. No, ci c'è per il cazzo e ci voglia a noi, perché c'è un numero che sta allontanato. Guarda dell'acqua, dell'acqua, dell'acqua. C'è ragione. C'è una rega? È uno scherzo, proprio. Mattia, vieni qua. C'è pure Mattia a fare avanti. Per fuggire. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Tanto scusate che vi ho rotto il cazzo. Era pinto, però. Cioè, stavo... Eh, non stavo parte l'epoca. No, perché venivano nella zona, era uno. A proposito, se non vi disturbo, due minuti proprio, giusto per sapere, se intanto abitate qua. Sì, abito qua. Da quanto tempo, come sempre? Da sempre, troppo scelta. Quando siamo... Di fornami, perché è arrivata a più in baglia. Una delle facce più pulite. Sì, effettivamente sì. Possiamo dire... Pulite un po'. Mi sono andata a rompere le palle. E beh, scusa. Ma che hai pensato? Questo è Mattia. Sì, questo è Mattia. Sì, io ti faccio, guarda. Beh, com'è stato crescere in questo quartiere, no? Che... No... Che era di Romea, sai? Come dicono tanti, è pericoloso, eh? Lo sai, io, tanto abbiato. Sto ragazzi, due anni. Mi sono venuti durante i giorni, no? Anzi, che so di intervenire, dai. No, infatti, ti ho dovuto chiamare una certa. Io ho pure temporeggiato, dico, eh? Però, alla fine, non si è rimasto... No, no, sono stati ultra tranquilli. Una certa, che ho detto... Non manate continuando, perché mi sentivo un po' in difficoltà di carità. No, io, prima che sentiate qualcosa, aspetto. Vabbè, giusto. Che vi puoi aiuto, si deve sentire dopo, no? Certo, se sei poi evitato, si è avvenuto. Se hai evitato, capito? Grazie. Oh, comunque, vi ringrazio. Scusate, ha rotturato i giorni. Scusate, volute il cazzo. Lui si è alzato, diceva brutte attenzioni. Infatti, lui, ci sono raddicinato. Infatti... Tutto a posto, regà? Tutto a posto. No, no, però... Siete qua, Dicione? Dicione, qua. E io, un po' fuori zona, diciamo. Tu ti hai sentito infastinito? Fuori di quasi... Eh, no... Che cazzo vuole? Eh, hai capito. Cioè, uno viene lì e ti dice... Ste vase. Lui che è matto infastinito a torbare la mola, cazzo. Il bello è che, dico, ma più è una bomba. Quando ho visto che si alzava, dico... Poi, vede, ho detto sempre troppo lontano, dico... Non so, cazzo. Regà, scusate. Immagini. Grazie. Sto a posto. Eh? Aspetta. Che? Aspetta un attimo. Sto a posto? No, sto al telefono a chiedere. Ah, sto al telefono? Sì, sto al telefono a chiedere. Sto a me? No, no, scusami. Perché? Questo sta... Qualcuno si è fatto sgamare. No, non devi fare questo. Eh, era... Esperimento sociale. Esperimento sociale, guarda, c'è sta pure lui. Lui si chiama Mattia Faraoni, campione mondiale di boxing. Volevamo fare esperimento sociale, ma è riuscito perché ho fatto sgamare il camera. Però lui è tutto educato, tutto a posto. Siete come sta? Tutto bene. Buon lavoro. Scusate, eh. Ciao, bello. Grazie, buon lavoro. Ciao, bello. Oh, ma non lo fa al coatto. Questa è casa mia. Non lo fa al coatto. Buon lavoro. Buon lavoro. Buon lavoro. Cioè, lui mi voleva fare uno scherzo a lui. Io lo parlo, mi sembra di insistere lo che gli oggetto. Eh sì, ma non capisco che è successo. Chiedo, te i capiti. Cosa chissimi? No, sto al telefono. No, guarda che sono io. No, guarda che sono io. 呢? Sto al telefono. No, guarda che sono io. No, guarda che sono io. Non scherzo. No, guarda che lascia. E' uno scherzo. Ma devo riconoscere, mi chissà, io dobbiamo lo zinga. Che assopano? Allora, diciamo che è il peggio che potevo via. Perché dici che dalla fascia non si capisce mica? Che tu che me ci hai mandato, eh. Tu sei di qua, no? Si, si, l'hai reato. Mi ha fatto un po' stranissima, un po' a 2.000, l'hai reato. Ho mangiato la dieta. Ho mangiato la dieta, no? Ho mangiato la dieta, no? Ho mangiato la dieta. 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 Non è che se mi giocava da solo... Ma ricoglioni... C'ho avuto un trauma psicologico, regà. No, no. Non ho soldi, non ho soldi. Non ho capito. No, ha detto tipo, non ho soldi per il telefono. Per il telefono. Se tu, si rende a lui il cellulare che ti serviva. Eh, si, si. L'ha capito un cavolo. Quello è l'obiettivo. Ci siamo posti con Costantino. Poi ci sta il bar. Quattro bella monaca, l'unico bar. Entri a fare il matto, eh. Vai. Noi siamo 40, 50 anni dietro. Se non ci vedo... No, eh. Oh, ma avete rotto il cazzo proprio. Dedica verità, eh. Capito? Oh, ma avete visto tutti uno per uno, me sa. Porco due, oh. Ma che davvero? Io non ho problemi, eh. Cazzo voi. Cazzo voi, cioè, boh. Porco due, mi hanno riconosciuto. Eh, mi hanno riconosciuto. Stanno pure a giocare, oraci. Ma no, no, no. Scusate, ragazzi. Stavo a fare uno scherzo. Oh, per disturbo un minuto proprio, un secondo. Vai. Siete qua, uve. Certo, sono pure piccolo. Eh, perché da lontano ne avevo visti, eh. Seconda via... Quindi. Sono allevano atti i momenti da passoporlo. Ah, ha stato a giocare. No, eh. No, no. No, no. Comunque uno ho sentito da lontano, ma ha detto tipo uno contro uno vanno dei parchi. Sì. Stavo con le gruppi a te spente, dopo lì mi dispiace. Un po' scherzo tutto. Però inizialmente pensate... No, una cosa, una domanda. Inizialmente pensate, dai, ero che stavo al telefono? No, ma no. Che cazzo avete pensato? Niente, io penso che vi stavate avvicinando normalmente. No, pensavo che stavano la scherzata, non lo so. E' desentivo, ma se stavano la scherzata. Ah, vabbè, allora è proprio una merda. Abbiamo quasi incerto. Ragazzi, spero che abbiate apprezzato questo video, pure perché abbiamo letto... Ah, abbiamo, ho rischiato la vita. Hai rischiato. Ti vedo qui sotto nei commenti che devono scrivere. Qual è il prossimo quartiere che vorrebbero vederti provocare le persone? La rischio pizza in faccia. Ma l'altro, cari, oggi, mancano dopo. Famo una cosa, se mille commenti scampiace, vado. Da. ... ... ... ...